Benvenuti al nostro canale di YouTube. Oggi ci troviamo in una piccola cittadina chiamata Capila, a circa 45 minuti della città di Panama City, dove siamo felici di potervi presentare questa unica opportunità dove potrei vivere immerso nella natura. L'urbanizzazione è molto ampia e offre tante occasioni. Abbiamo più di 7 entri di terreno, un orto, grandi alberi, sentieri immersi nella natura e una piantagione di caffè. Abbiamo disponibile una casa a 225.000 dollari, costituita da due camere da letto, due bagni, una bellissima vista e un ampio giardino. Se stai cercando qualcosa di più grande, ti offriamo una casa con tre camere da letto, tetto alto, grandi spazi, una piscina privata e un ampio giardino, tutto al prezzo di 350.000 dollari. Grazie per la visione!